OxyStraMed è l'unica e originale medical device capace di fare la propulsione di ossigeno, una terapia importante e unica nel suo genere perché per essere definita tale deve avere delle caratteristiche fondamentali e peculiari da non confondere con l'innumerevole presenza di medical device che si freggiano di essere propulsori di ossigeno. In realtà per avere queste caratteristiche è indispensabile che la purezza dell'ossigeno sia mai inferiore al 93% e soprattutto che la pressione atmosfera con la quale viene emessa deve essere superiore di 2-3 volte rispetto alla norma. Questa è la propulsione di ossigeno e questo lo fa esclusivamente la OxyStraMed. Con la propulsione di ossigeno noi possiamo trattare numerose patologie ma rimane ed è importante definire e dire che è il gold standard per l'antiaging. È ovvio che poi possiamo utilizzarla per le caratteristiche rigenerative che l'ossigeno ha sui tessuti quando vengono trattate, per rughe, l'assita cutanea, adiposita cutanea, macchie, alterazioni cutanee tipo eczemi o psoriasi, acne e anche nelle ferite difficili. Tutto questo ci consente di trattare numerosi pazienti che non riguardano solo la medicina estetica ma anche patologie vere e proprie che nell'ambito della dermatologia o nell'ambito vascolare come ferite difficili, insufficienza venosa, stasi linfatica o nell'ambito reumatologico come tutta la miriade di patologie artro-reumatiche. Grazie! 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 Trovo che il trattamento di propulsione d'ossigeno sia veramente fantastico, nulla a che vedere con tutti quelli già provati in precedenza che spruzzavano sull'ossigeno. Questo funziona già dalla prima applicazione in quanto le rughe intorno agli occhi e intorno alla bocca sono già più distese, non ho neanche più le macchie così evidenti, mi sento veramente bella con una pelle più luminosa. Questo tratamento è efficace e piacevole, ho avuto ottimi risultati. Con l'ossigeno, meno cellulite evidente e tonificazione all'interno coscia. Grazie per la visione!